Nell'ultimo video che ho postato dove si parlava di Pere Williams, libertà e bottiglie, la seconda bottiglia si riferiva al linguaggio e anche il linguaggio è un'eredità, si diceva che riceviamo dalla nascita e di fronte alle parole si diceva che è importante rizzare il pelo, vedere come la loro accezione cambia anche nel corso del tempo e spesso anche il loro significato, le conseguenze che implicano può cambiare e non essere esattamente quello che pensiamo. Allora da questo punto di vista volevo proseguire una riflessione su un'altra parola che oggi è molto usata e la parola è meritocrazia, meritocrazia è sulla bocca di tutti, a destra come a sinistra, a di là insomma. Sembra di vedere in questo, nel fatto che la nostra società diventi sempre più meritocratico e che si dia più peso al merito, una delle soluzioni dei problemi della crisi che abbiamo davanti. Il fatto che la mancanza di merito inibisce ogni articolazione della vita sociale, svilisce le aspirazioni, le competenze, le passioni, le idee dei cittadini, la possibilità di affermarsi nel premio al merito, la possibilità di dare via libera, libero sfogo alla capacità individuale, quindi in qualche modo anche alla competitività, alla competizione e quindi alla realizzazione di chi merita effettivamente di realizzarsi. Tutto bello, tutto buono, solo che anche meritocrazia sembra essere un termine ambiguo e come ogni parola non è neutrale e quindi bisogna interrogarla, interrogarsi per cercare il significato profondo delle sue implicazioni. C'è stato un libro di Michael Jung, un libro distopico che si intitolava L'avvento della democrazia, che è uscito nel 78 e tradotto nel 62, dove l'autore evocava gli esiti nefasti provocati in modo solo apparentemente paradossale dalla volontà di abolire i privilegi della nascita e della ricchezza. Preconizzava un mondo in cui la selezione potesse essere esclusivamente basata sull'intelligenza e uno degli assi portanti di questo possibile cambiamento era rappresentato dalla misurazione precoce delle capacità dell'individuo, resa possibile da una metodologia selettiva che poteva trasformare gradualmente il sistema scolastico. L'istruzione, da questo punto di vista, poteva non essere più impartita a tutti allo stesso modo, ma essere differenziata. Quali erano i presupposti? I bambini potevano essere indirizzati verso scuole diverse, organizzate gerarchicamente sulla base delle capacità individuali. Secondo Jung, l'aristocrazia di nascita poteva essere sostituita dalla aristocrazia dell'ingegno. A questo punto, però, la stratificazione sociale diventa ancora più netta, che si proietta anche in un futuro, fino al 2033. In questo futuro, in cui si trasformano le modalità di selezione verso un sistema più meritocratico, succederà una rivolta delle classi inferiori. Su cosa è fondato l'ordine meritocratico? È fondato sulla crescita economica. La selezione meritocratica, quindi, diventa uno strumento attraverso il quale le intelligenze servono ad aumentare le capacità di produzione. E quindi la canalizzazione dei bambini nel sistema di istruzione diventa precoce e rigida. L'educazione delle intelligenze è sostituita dalla loro misurazione e classificazione. Precocemente si misurano e si classificano le potenzialità degli individui e poi si stabilisce una modalità educativa commisurata alle loro possibilità. Ne consegue che gli uomini si distinguono non più per l'eguaglianza, ma in base all'ineguaglianza delle loro doti, che non sono distribuite ugualmente a tutti. E allora l'assioma del pensiero moderno diventa che gli individui sono di per sé ineguali, almeno come capacità, come doti individuali, come dotazione naturale che gli viene fornita sin dalla nascita. E da questo discende un precetto morale. Ed è quello che si deve dare a ciascuno una posizione nella vita proporzionale alle sue capacità. L'intelligenza che viene incoraggiata nel libro di Jung è un'intelligenza utilitaristica, pratica, misurabile. E questa misurazione, modernamente il ruolo anche della psicometria, della psicologia, nel valutare questa intelligenza, queste attitudini, anche nell'orientamento, nella formazione, insomma, questa misurazione riproduce l'organizzazione e le gerarchie del modello industriale. Certo che il termine meritocrazia, da questo punto di vista, è stato usato poi in modo abbastanza critico anche dalle forze politiche di sinistra. Da questi presupposti si è evoluta un'ideologia meritocratica. La selezione precoce in ambito scolastico fondata sulla misurazione diventa uno dei fondamenti positivi del nuovo modello sociale. Ricerche approfondite avrebbero evidenziato come le performance di un bambino di 7 anni, lettura e scrittura, già offrivano un'ottima previsione del suo reddito a 37 anni. Alla base di questo cosa poteva esserci? Che la crescita economica diventava l'unico metro di giudizio, cioè quanto avrebbe reso in età matura questo bambino che già prometteva di avere i prerequisiti per affermarsi meritocraticamente perché era più dotato. In una società che premiasse il rapporto al merito, il collante di questo concetto diventava il mercato, una società meritocratica profondamente basata sugli incentivi per gli individui a competere. E questo sarebbe l'essenza del mercato, no? La competizione. Un libero mercato che viene usato come fetizio, senza riflettere sulla sua esistenza reale e sulle conseguenze sociali derivanti da questa costruzione ideologica. Nelle società meritocratiche quindi la disuguaglianza è giustificata dall'ideologia della meritocrazia. Quindi la disuguaglianza in qualche modo viene razionalizzata, viene teorizzata. E ancora, nelle società meritocratiche, la disuguaglianza sociale conta molto meno della mobilità sociale. Insomma, è meglio avere un sistema in cui la mobilità sociale sia più percorribile, anche a scapito della disuguaglianza sociale. Da questo presupposto la conseguenza teorica è questa. In genere si ritiene che per assicurare l'eguaglianza di opportunità bisogna dare a tutti la stessa qualità di istruzione. E questo luogo comune sarebbe profondamente errato. Nel senso che dando a tutti la stessa educazione non si aumenta la mobilità sociale e il merito muore. Insomma, se trattiamo tutti nello stesso modo, sia quelli più bravi, più intelligenti, che quelli più stupidi, alla fine abbiamo una società piatta in cui c'è poca mobilità e il merito non viene premiato. E allora sarebbe necessario passare dall'istruzione all'educazione, da istruire tutti allo stesso modo, stesso trattamento per tutti, indipendentemente dalle loro prerogative e doti individuali, a educare secondo il potenziale di ciascuno, individualizzare molto di più la metodologia di educazione. Educare ciascuno in base a quello che già offre in partenza, insomma in base già alle sue qualità, da quando è molto picco. Quindi dall'eguaglianza del livello di istruzione alle pari opportunità nel ricevere la migliore educazione. Il passaggio diventa quello, dall'eguaglianza del livello di istruzione, cioè una scuola che insegna a tutti le stesse cose, a una pari opportunità nel ricevere la migliore educazione, cioè la possibilità di avere per tutti un livello di educazione adeguato alle doti individuali. La meritocrazia diventa l'esatta antitesi della democrazia, perché la scuola gerarchica, su cui questo modello verrebbe a fondarsi, non è più immaginata per insegnare la pluralità di culture e valori, ma per anticipare e inculcare le stratificazioni del sistema produttivo e finalizzare il sapere allo sviluppo economico, nel senso che quello che noi insegniamo a chi ha i talenti fin dall'inizio e li individuiamo molto precocialmente, è finalizzato a farli diventare produttivi al massimo per il sistema economico, per quello sviluppo e da questo punto di vista il concetto di merito diventa un sinonimo di obbedienza e dovere, perché presuppone una legittimazione discrezionale da parte di qualcuno che occupa una posizione gerarchica superiore o esercita un potere politico. Quale primato rivendicare? Quello del merito o quella della conoscenza, che in qualche modo deve essere offerta a tutti nello stesso modo? E da questo punto di vista allora qualcuno diceva che solo il sapere rappresenta un criterio equo di selezione del valore individuale e quindi occorre renderlo disponibile a tutti e solo in questo modo ciascun individuo sarà in grado di governare il proprio lavoro. Questa sarebbe la prospettiva che concilia libertà e conoscenza e lo fa per tutti e non solo per una ristretta elite tecnocratica. Nel concetto di meritocrazia si mettono in gioco altri due concetti fondamentali, altre due parole chiave di cui ci riempiamo la bocca, cioè uguaglianza e democrazia, perché il concetto di meritocrazia rischia di non esprimere il riscatto dall'ineguaglianza delle opportunità, ma di diventare il suo contrario, cioè proprio di dare opportunità diverse a persone diverse e questa non è solo una sterile disquisizione lessicale. Quindi la parola meritocrazia è una parola densa di implicazioni sociali e che in qualche modo pone il problema di scegliere da che parte stare. Dobbiamo sapere che se stiamo per il merito a tutti i costi stiamo per una società che non rende tutti uguali, ma che sancisce nel suo principio già una disuguaglianza sulla base di questa disquisizione terminologica che io vorrei porre in maniera problematica. Insomma, mi piacerebbe che nascesse un po' una discussione, un dibattito su questa questione, perché gli aspetti sono... e le implicazioni sono tante e le implicazioni sono tante anche nella nostra vita quotidiana, nella nostra attività pratica. Perché come... al di là della scuola e della formazione dove il problema diventa ovviamente politico, diventa di scelte politiche concrete, di come strutturare l'insegnamento, insomma, no? Quindi, insomma, una cosa grossa. Però c'è anche quello... l'altro problema è come riconoscere il merito e come valorizzare il merito. E qual è il merito effettivo? Qual è il merito? Per esempio, stiamo... stiamo su YouTube e cerchiamo di vedere come... e come il merito, per esempio, viene valorizzato su YouTube. Chi sono le persone, gli YouTuber, che... che meritano? Come si attua il merito YouTube? Qual è la scala che compensa il merito? Anche qua, a sentire certe discussioni su certi hangout, si ha l'impressione che il merito sia quantizzato sulla monetizzazione, quindi sul numero degli iscritti e sul numero delle visualizzazioni. Il passaggio successivo è quello che il numero degli iscritti e il numero delle visualizzazioni è tanto maggiore, tanto più si inseguono, e qua ricorda molto anche certa televisione, i gusti della massa. E i gusti della massa sono naturalmente, per forza, eccetera, bassi. Sono di un uso del mezzo usa e getta, insomma, di un uso ludico del mezzo, tanto per dirne uno. Allora, sembra che per ottenere visualizzazioni e iscritti bisogna abbassare sempre di più e rendere sempre più percepibile, popolare, diciamo così, i contenuti. I contenuti devono seguire le richieste più basse, più banali della popolazione, della gente. Il merito dello youtuber, diciamo, famoso, popolare, valutato in base alle visualizzazioni e agli iscritti e quindi premiato, diciamo così, economicamente, insomma, quando i numeri sono alti c'è anche un certo premio economico, non è quello di fare un prodotto nobile di qualità, ma è quello di sapere bene comprendere la psicologia degli utenti e di creare un prodotto sufficientemente basso che sia alla portata di tutti e che quindi gli dia un reddito e gli permetta di stare sul mercato di YouTube, cioè di avere, ripeto, visualizzazioni e iscritti tali da renderlo un big. Anche qui lo scalino è un po' perverso. Meritocrazia non è più valore in senso assoluto, insomma, in senso assoluto nel senso di qualità. Se tu stai e vuoi la qualità ovviamente non hai un premio di meritocrazia nel senso che i termini su cui si basa il successo non funzionano. Allora il merito non è più nel merito come intelligenza di creatività, di validità di un prodotto, ma è nella tua capacità di usare tutti i mezzi per promuovere artificialmente un prodotto e per fare un prodotto talmente basso che possa stare dappertutto, che possa essere usato e goduto da tutti. E più basso è meglio. Qui siamo nel merito, siamo nella valorizzazione delle capacità individuali e delle capacità e questa è una questione che pongo alla riflessione, alla discussione. c'è un'altra riflessione che secondo me riguarda il merito ed è quella di valorizzare i talenti veri. Allora in questa situazione siamo in grado di riconoscere e di valorizzare i veri talenti quelli che effettivamente al di là di un sistema economico insomma ma di portare cioè di quello che richiede come dire un sistema tecnologico. Pensiamoli per esempio nell'arte no? Non è che questo modo consumistico di di guardare al talento no? Come fenomeno come fenomeno da baraccone anche come mostro no? Porta a certe conseguenze per esempio a uno sfruttamento che io trovo abbastanza a volte non so che ha un che di sadico insomma no? Di trasformare per esempio bambini piccolissimi in piccoli mostri da baraccone piccoli bambini piccolissimi che sono dotati ma non tanto di formarli in maniera come dire in maniera creativa e graduale per diventare dei ma proprio di strumentalizzarli fin da da tenerissima età quando dovrebbero dedicarsi anche a molte altre cose al gioco eccetera eccetera a produrli come fenomeni come mostri fin da piccolissimi sfruttando una loro abilità naturale innata farne un qualcosa che poi non si sa come evolverà quando diventeranno grandi togliendogli al gioco togliendogli agli amici togliendogli al a tutto quello che caratterizza la vita lo sviluppo di un bambino molto piccolo insomma buttandoli per esempio piccoli strumentisti piccoli concertisti buttandoli in pasto fin da molto piccoli a carriere a un pubblico a delle carriere e quindi a uno sfruttamento insomma di questi giovani a volte mostruosi talenti insomma che si vedono perché piace molto il fenomeno alle masse sono molto attratte da tutto quello che è speciale particolare sia in senso buono ma molto anche in senso deleterio insomma a tutto quello che è il fenomeno che è fuori che non rientra nella nella normalità no il disastro il genio il bambino bambinetto piccolissimo geniale no e questo e questo viene sfruttato ma viene sfruttato già finché l'individuo è piccolissimo insomma secondo me togliendono da altre da altre attività e occupazioni che dovrebbero invece essere l'essenza della sua infanzia e portarlo semmai quando avrà raggiunto la sua maturità a intraprendere una sua carriera e poi volevo anche riflettere su su un altro fenomeno che io trovo un po' incredibile no riprendendo anche qui un altro video che ho recentemente fatto il fenomeno di come di come si riescono ad attribuire dei meriti a chi dei meriti non ce li ha e quindi di creare dei talenti che non ci sono di farne dei miti in maniera artificiosa in maniera artificiale insomma dove è francamente constatabile che il talento non c'è e qua mi riferisco ancora al al alba rami ranimba rami pianista più grande interprete vivente di Bach definito e poi quando quando lo senti suonare in una pubblica esibizione insomma tra virgolette in concerto insomma il pubblico che dovrebbe essere l'attività principale di un di un grande pianista di un pianista no ti accorge che che è un completo fallimento insomma questo non soltanto me ne accorgo io ma se ne accorge chiunque sia dentro nel mondo della musica chiunque fa concertismo chiunque insegni in un conservatorio insomma chiunque abbia una conoscenza della musica che non sia soltanto ma perché mi interessa il fenomeno rami barami perché non è il fenomeno del piccolo cantante che ha un pubblico di per sé di massa per cantare una canzonetta più o meno male e per sedurre un pubblico ignorante l'operazione sia possibile insomma e sia anche costruibile no perché poi insomma chi usufruisce di questo prodotto della canzonetta insomma in realtà spesso non ha come dire grandi culture e grandi conoscenze dietro alle sue spalle ma nel campo della musica classica insomma della musica colta della musica di elite diciamo così no in cui i concerti sono frequentati da gente colta da gente che è preparata da gente che sa ascoltare pensiamo anche all'oggione no ascoltatori di loggione del teatro d'opera no che erano attentissimi che conoscevano a memoria tutte le aree d'opera tutte le cose insomma e che erano anche molto molto esigenti molto critici nei confronti del cantante percepivano immediatamente non solo la stecca ma anche insomma quello che quello che non funzionava ed erano pronti immediatamente a fischiare a togliere di mezzo insomma chi non era adeguato chi non ci stava chi non rientrava nel gusto non aveva le abilità le doti necessarie insomma no allora nelle sale da concerto non riescono a passare delle figure che non siano adeguate perché il pubblico ha un gusto raffinato in quei luoghi è abituato chi va ai concerti è gente abituata ad andare ai concerti gente che è abituata a sentire voci personaggi diversi interpretazioni diverse quindi ha un gusto formato non è quello che ascolta così senza sapere allora un fenomeno come Ramin Barami che quando lo senti suonare non una volta ma due volte tre volte e fallisce completamente fa delle esecuzioni che indegna di un allievo di conservatorio tra l'altro compiendo anche l'ingenuità di proporsi con brani come dire brani che tutti studiano per un quintanno per esempio tutti studiano i primi anni di conservatorio tutti studiano che tutti conoscono e quindi insomma dove si è abituati ad esecuzioni cose molto conosciute sono insomma diciamo che è un'ingenuità per un concertista che non sia presentarsi con brani che tutti conoscono meglio suonare qualcosa cose che la gente non conosce insomma hai meno termini di confronto di paragone con altri no però insomma se tu sei considerato il più grande interprete vivente di Bach e fai tutta la tua vita di musicista diciamo così concentrata su un unico autore che suona il pianoforte non può esimerti perché ormai Bach lo conoscono tutti e le sue musiche fanno parte anche dei programmi di conservatorio insomma a tutti i livelli quindi lì ti devi confrontare con tutte le interpretazioni che ne sono state fatte allora la questione è come fai a continuare a essere sulla scena musicale se quando si sentono le tue esibizioni in pubblico suoni a un livello di un ragazzo di conservatorio continuare a godere di una fama di essere il più grande interprete di Bach cioè come fai ad ottenere questo merito diciamo questo riconoscimento di merito in un posto come questo come come i teatri dove suoni insomma quando poi quei pochi video insomma che rimangono e che documentano le tue esibizioni in pubblico sono asperamente criticati da tutti quelli che ne sanno qualcosa di musica qui secondo me ci sta una cosa che non riesco a capire e che fa percepire che il merito anche nel luogo che dovrebbe per forza cioè anche nel luogo in cui per definizione dovrebbe essere premiato il merito ci sono dei criteri che sono abbastanza oggettivi insomma per valutare se non altro i prerequisiti di un grande artista insomma di un grande musicista dopodiché si potrà discutere sul fatto che una cosa possa piacere di più di meno eccetera ma quelli che sono i prerequisiti di un grande concertista sono quelli insomma non ci si può scappare non si può prescindere da quelli in questo personaggio mancano i prerequisiti cioè un musicista non può non avere musicalità musicista a questi livelli che continua ad avere fama di essere il più grande interpretativamente di Bach e che ha emesso classificato tra i grandi pianisti alla stregua di Michelangeli alla stregua di Gesanda alla stregua di Marta Argeric di Claudio Arrau di Baccaus di Paul Badura Skoda insomma nell'elenco che leggo in internet sui grandi musicisti dell'epoca insomma il nome di Ramin Barami viene dopo quello di Paul Badura Skoda prima di Daniel Barenbo sono in ordine alfabetico i prerequisiti devono essere evidenti e questi prerequisiti non possono non non essere percepiti nel luogo sacro dove il musicista si esibisce che è la sala da concerto e allora qui secondo me è la stranenza di questa cosa da dove viene fuori come può essere mantenuta questa fama perché questo mette in discussione tutto il discorso che noi facciamo sul merito no? voglio dire c'è un qualcosa che dovrebbe essere frutto di un merito e che è un merito immeritato insomma non costruito non non guadagnato non guadagnato sul campo sul luogo deputato insomma noi non possiamo immaginare un Horowitz senza averlo visto suonare in una grande sala da concerto insomma senza aver visto com'era il pubblico durante i suoi concerti un Michelangeli senza vederlo suonare direttamente insomma abbiamo in mente tutti insomma noi le registrazioni anche alla RAI di Michelangeli e se noi vediamo suonare Ramin Barani la cosa è disastrosa insomma tanto è vero che poi i suoi video scompaiono dalla rete insomma non vengono pubblicati oppure vengono anche tolti quei pochi video di esibizioni dal vero insomma che lui ha fatto e sappiamo tutti poi come può essere costruita una registrazione insomma anche battuta per battuta cambiando il suono cambiando tutto quindi sulle registrazioni non è possibile farsi una un'idea vera documentale del valore di un personaggio e io capisco insomma che un personaggio come Ramin Barani potrebbe essere costruito ma per un pubblico diciamo così di massa per un pubblico che non frequenta le sale da concerto però un grande interprete un grande pianista non può mirare a quel pubblico non può diventare popolare se prima non è passato attraverso i luoghi dove si fa quella musica dove questa musica è è concepita e che sono le le sale da concerto è il luogo dove prima comunque il musicista passa dopo magari si dedicherà alla discografia e comunque insomma anche lasciando perdere il discorso dei concorsi dove molti grandi pianisti sono sono nati insomma e poi come dire è il premio insomma no poi del è il premio che ottiene insomma il vincitore poi del grande concorso anche internazionale è tutta una serie di concerti sta lì il premio sta nella possibilità poi di farsi sentire di avere l'accesso a quelle grandi sale a cui altrimenti non avrebbe non avrebbe accesso e quindi di costruire la sua la sua fama la sua carriera sul sul suo valore qui invece ci troviamo di fronte a un personaggio che quando mette un video su internet poi alla fine questo video diventa non visibile perché per un eccesso di critiche negative insomma ma che non possono essere che tali perché insomma siamo di fronte a delle cose inascoltabili e questo mette in discussione anche ritornando al merito anche è l'ambiguità di questa parola merito ma anche il merito anche in queste cose non è più merito e allora se anche nel campo dell'arte ma nel campo dell'arte potrebbero esserci potrebbero esserci come dire tante tante sfumature però in questo tipo di arte insomma per esempio nella classe esecutiva bacchiana ripeto c'è un livello sul quale non ci possono essere dubbi che sono quello dei prerequisiti insomma degli elementi con cui si valuta poi all'interno di questo tante sfumature su cui si può discutere ma i prerequisiti ci devono essere e tra i prerequisiti ci sono anche quelli che quello che dovrebbe essere il più grande interprete bacchiano vivente dovrebbe essere la capacità di tenuta di un concerto insomma uno non si può non si può lasciare uno potrebbe essere preso dall'emozione una volta potrebbe steccare una volta insomma due volte cioè voglio dire è ammissibile che succedano delle cose in un concerto una giornata in cui uno sta male in una cosa così quando le uniche esibizioni pubbliche che è dato di vedere sono tutte sullo stesso livello allora non si tratta più di un incidente allora c'è da chiedersi insomma cosa è successo insomma cosa da cosa è reso possibile questo insomma è una violenza è una violenza anche alla meritocrazia presa isolatamente come un valore non con tutti quei punti interrogativi che cercavo di mettere di fronte a questo termine mi piacerebbe sentire cosa ne pensate che c'è che c'è Grazie a tutti.